Musica Possibile focolaio coronavirus a potenza e il sindaco Guarente non esclude la chiusura delle scuole Operazione coppia di regine dei carabinieri, concluse le indagini Recovery Plan, il presidente della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi incontra il ministro della pubblica amministrazione Brunetta a Roma All'istituto agrario di Matera la truppe del MIUR per il progetto Le Scuole Ben ritrovati in studio, apriamo questa edizione del nostro giornale con l'emergenza coronavirus Allora diamo subito un'occhiata ai nuovi dati aggiornati sui contagi e sui vaccini della task force regionale 169 casi positivi su 1386 tamponi molecolari analizzati Non permette di abbassare la guardia al nuovo bollettino della task force lucana Tra i nuovi contagi ce ne sono 25 a Matera, 30 a Potenza, 20 a Montescaglioso, 19 a Policoro, 8 a Pisticci e a Venosa 4 persone non sono residenti in Basilicata La pressione ospedaliera resta sotto controllo anche se salgono 87 le persone ricoverate Di cui 5 in terapia intensiva, 3 a Matera e 2 a Potenza In diversi centri della Basilicata, in particolare della provincia di Matera Continuano a far paura alcuni focolai come quelli di Montescaglioso e Pisticci Ma per ora non sembrano esserci all'orizzonte decisioni per la creazione di zone arancioni o rosse A Potenza e il sindaco Guarente non esclude di chiudere le scuole Nessuna vittima nelle ultime ore, in totale sono 357 Mentre i lucani attualmente positivi sono 3579 Intanto sono risultati negativi i primi tamponi molecolari sui componenti degli uffici della curia di Matera e Ersina Dopo il contagio di un collaboratore in servizio nell'Arcivescovado I contatti stretti del paziente positivo, tra cui Monsignor Cagliazzo Dovranno rispettare l'obbligo della quarantena fiduciaria fino al 14esimo giorno dall'ultimo contatto A Potenza e Matera, nelle tende donate dal Qatar, prosegue la campagna vaccinale per gli over 80 Con ottimi risultati sulle adesioni 300 i vaccinati nella giornata di martedì tra la città dei Sassi, Policoro e Montalbano 450 gli anziani del capologo lucano che hanno ricevuto la prima dose In Basilicata, su 49.925 dosi consegnate, ne sono state somministrate 33.273 La percentuale scende al 66,6% E lo abbiamo sentito nel bollettino A Potenza 30 nuovi contagi che potrebbero configurarsi come un nuovo possibile focolaio Abbiamo intervistato il sindaco Mario Guarente che non esclude la possibilità di chiusura delle scuole Vediamo Sono state riscontrate diverse positività riconducibili principalmente a due istituti Un istituto che ospita una scuola elementare media e un altro istituto invece che ospita un asilo Nel primo caso parliamo di circa 18 ragazzi risultati positivi, tutti ospiti di una casa famiglia Ai quali poi vanno aggiunti 5 operatori sempre che lavorano in questa casa famiglia Mentre per quanto riguarda la classe dell'istituto che ospita invece la scuola per l'infanzia Ci sono state riscontrate 5 nuove positività che si aggiungono alle due che poi hanno in un certo qual senso D'è stato l'attenzione e quindi portato ad uno screening dell'intera classe dieci giorni fa La situazione è sotto controllo, è costantemente monitorata dall'ASP con la quale sono in contatto praticamente ogni ora E insieme all'assessore e all'istruzione stiamo valutando, ovviamente anche con la collaborazione dei presidi Di azioni da mettere in campo di qui per i prossimi giorni Certo, verosimilmente si rende necessario un altro screening di massa che si aggiunge a quello fatto nel mese di dicembre Per verificare un po' con lo stato delle cose all'interno delle scuole E non deve destare la preoccupazione questo episodio che speriamo rimanga isolato Almeno non deve destare la nostra preoccupazione in questo momento E ora la politica proseguono a rilento le trattative nella maggioranza per definire i posti da sottosegretari nel nuovo governo A tenere in stallo le nomine, i confronti interni tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico Vediamo Il governo di Mario Draghi non è stato ancora completato con le nomine degli altri alti incarichi Ovvero quelli dei sottosegretari Il totonomi è già partito da tempo Le formazioni politiche della maggioranza hanno consegnato al Premier le rispettive rose di nomi Il riservo nelle stanze di Palazzo Chigi dell'era Draghi però è massimo A rallentare la chiusura dell'assetto definitivo della nuova squadra di governo Oltre all'emergenza pandemica e al piano vaccini I problemi di natura politica nel Movimento 5 Stelle Formalizzati anche con la costituzione del gruppo degli scissionisti alla Camera e oggi in Senato Che si vede così ridotta la quota spettante da 13 a 10 sottosegretari Il confronto nei pentastellati potrebbe avvantaggiare qualcuno degli esponenti locali del governo uscente In corsa per la riconferma E' il caso ad esempio della Lucana Sottosegretaria Mise Mirella Liuzzi Giovane, donna, preparata, vicina al Presidente della Camera Roberto Fico E grillina della prima ora In casa Dem invece il già sottosegretario alle infrastrutture Salvatore Margiotta Lucano pure lui Incrocia le dita in attesa della direzione del Partito Nazionale convocata giovedì Con un ordine del giorno che non promette nulla di buono per gli aspiranti di sesso maschile L'affermazione di un partito di donne e di uomini al centro di una nuova fase politica Confronto aperto anche in Casa Forza Italia Dove circolano i nomi del pugliese Francesco Paolo Sisto alla giustizia E del lucano Giuseppe Molles all'istruzione Infine è nella Lega di Matteo Salvini Che ci sarebbero buone possibilità per il senatore lucano Pasquale Pepe Il sindaco di Tolve infatti è stato tra i primi amministratori meridionali ad abbracciare la causa leghista E Salvini ha bisogno di puntellare soprattutto l'area meridionale Dopo la campagna di arruolamento portata avanti dai fratelli d'Italia anche in regione basilicata Per Pepe si parla di un posto da sottosegretario al ministero che fu di Teresa Bellanova Dove anche l'altro pugliese ma del Movimento 5 Stelle sottosegretario uscente Giuseppe Labbate Non sarebbe dato tra i favoriti per la riconferma Altro ex che saluta la squadra di governo è il professore Tarantino Mario Turco Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici Adesso invece parliamo di Recovery Plan Il presidente della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi ha incontrato a Roma il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta Il presidente della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi ha incontrato a Roma il neoministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta I due hanno discusso del futuro della pubblica amministrazione la vera chiave di volta nel sistema in vista del Recovery Plan Quello presieduto da Brunetta è probabilmente il dicastero chiave nella gestione dei 209 miliardi che arriveranno in Italia E il presidente Bardi si è fatto portatore delle richieste di un territorio che invoca digitalizzazione, certezza e velocità delle procedure autorizzative E un'adeguata formazione del personale amministrativo Quello tenutosi a Roma è stato un incontro svoltosi nella più cordiale collaborazione Nella speranza che il nuovo governo possa imprimere un nuovo impulso alle politiche pubbliche E in particolare per le aree interne del mezzogiorno Con Renato Brunetta, dichiarato Bardi, ci siamo dati appuntamento tra qualche mese Per verificare insieme le necessità della Basilicata in vista del Recovery Fund La nostra regione deve avere un ruolo da protagonista È stato un piacere parlare con una persona di grande statura culturale come pochi in Italia Che conosce le regole e le riforme di cui ha bisogno la pubblica amministrazione sia a livello territoriale che nazionale Adesso parliamo invece del processo Totalgate Tutti assolti gli imputati, vediamo È arrivata l'assoluzione perché il fatto non sussiste per tutti gli imputati nel filone conclusivo del processo Totalgate Ad esprimersi è stata la Corte d'Appello di Salerno, secondo quanto emerso da fonte giornalistica Dopo l'annullamento della sentenza di assoluzione in secondo grado da parte della Cassazione per le persone chiamate in causa I dirigenti della Total, Roberto Francini e Roberto Pasi Roberto Giliberti, ex consulente della multinazionale petrolifera E l'ex dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Corletto Perticara, Michele Schiavello Caduta dunque l'accusa di concussione risalente al 2007 Con la quale gli imputati avrebbero esercitato pressioni sui proprietari terreni Dove poi è stato costruito il centro oli di Tempa Rossa Una manovra ritenuta a suo tempo utile per ottenerne l'esproprio a prezzi di favore L'inchiesta nacque presso la Procura di Potenza e portò a nove condanne al termine di un processo di primo grado Seguì l'appello che ribaltò la sentenza con assoluzione degli imputati e prescrizione per altri Poi, quanto deciso, dalla Cassazione nel 2019 La quale aveva ritenuto non risolutiva la ricostruzione dei giudici E che portò all'annullamento della sentenza Infine, dopo tanti anni, la decisione di assolvere tutti dalla Corte d'Appello Salernitana Intanto, il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata ha multato per 30.000 euro la compagnia Total A causa degli eventi anomali verificatisi dal 14 al 18 gennaio, proprio nel sito di Tempa Rossa Le contestazioni, è scritto in una nota regionale Riguardano l'inosservanza di quattro prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale del 2011 Soddisfatto, l'assessore al ramo Gianni Rosa Per gli ulteriori incidenti, occorsi dopo il 18 gennaio, ha precisato Sono anche per loro in corso le istruttorie previste dalla legge Qualsiasi violazione delle norme ambientali e delle prescrizioni devono essere sanzionate Ed è stato inaugurato a potenza l'anno giudiziario 2021 del TAR di Basilicata Vediamo Nel 2020 il TAR della Basilicata ha quasi ormai eliminato l'arretrato per i ricorsi ultradecennali 11 quelli pendenti rispetto ai 20 dell'anno precedente E per quelli ultracinquennali, da 141 del 2019 ai 17 odierni Questo è uno dei dati illustrati a potenza dal presidente del TAR Basilicata, Fabio Donadono Nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 I ricorsi ultratriennali, che vanno al pari, considerati come un effettivo arretrato da eliminare Si sono dimezzati, attestandosi a proseguito, a 92 rispetto ai 176 dell'anno precedente Ne consegue che risultano non solo raggiunti ma ampiamente superati gli obiettivi posti nel programma di gestione dell'arretrato per il 2020 Sono certo, ha dichiarato Donadono, che il vostro giudizio sul nostro operato potrà essere per noi motivo di conforto e di stimolo Al 31 dicembre 2020 risultano infatti pendenti 691 ricorsi con una riduzione rispetto all'anno precedente del 20,5% E con una diminuzione dei nuovi ricorsi depositati e di una flessione dei ricorsi definiti Nel 2021 sono state invece autorizzate tre udienze straordinarie per consentire la diminuzione, ovvero possibilmente, l'eliminazione dei residui ricorsi ultratriennali pendenti Donadono ha infine rivolto nel corso del suo intervento un pensiero innanzitutto alle persone, oggi oltre 95.000, che non sono più tra noi a causa della pandemia A coloro che hanno perso un congiunto o un amico, a chi non ha più il lavoro, a coloro che hanno sofferto meno mazioni nel corpo e nello spirito sopportando privazioni e limitazioni negli affetti e nei rapporti umani con la compromissione di beni fondamentali che avevamo sempre, finora, considerato come irrinunciabili ed incomprimibili E ora una notizia di cronaca, due uomini, uno residente in Campania, l'altro residente in Calabria sono stati denunciati dai carabinieri in servizio anti-bracconaggio dell'area del Parco Nazionale del Pollino con le accuse di detenzione di armi e oggetti atti ad offendere I due erano a bordo di un autocarro che trasportava otto cani da caccia e alcuni borsoni Verificata la regolarità del trasporto dei cani, i militari hanno controllato i borsoni trovando due coltelli da cucina, una mannaia, tre coltelli a serramanico, due pugnali e un pugnaletto che sono stati poi sequestrati E ancora alla cronaca si sono concluse le indagini dei carabinieri nella maxi operazione coppia di regine, vediamo Spaccio di droga tra minorenni e studenti, un'associazione con base a Irsina che provvedeva alla cessione dello stupefacente anche a Grassano e davanti alle scuole di Matera organizzata gerarchicamente e con compiti ben delineati e precisi I carabinieri hanno consegnato a otto degli indagati nell'operazione coppia di regine gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Potenza L'indagine, che ha portato finora l'emissione di 32 ordinanze di custodia cautelare è stata coordinata dalle procure distrettuali antimafia di Potenza e Bari è stata intitolata coppia di regine perché a coordinare lo spaccio c'erano Irsina e a Gravina in Puglia due donne nel paese del Materano, secondo l'accusa, la donna indagata faceva spacciare anche due figli uno dei quali di 9 anni le indagini sono cominciate nel 2016 quando una donna, insospettita per la presenza di foto di droga sul telefono del figlio, si è rivolta ai carabinieri di Grassano poi il proseguimento delle indagini con intercettazioni telefoniche e ambientali pedinamenti, appostamenti e sequestri tanto da far emergere un fiorente traffico di sostanze stupefacenti e soprattutto le sinergie tra il sodalizio lucano e quello pugliese e adesso cambiamo argomento la Camera di Commercio di Basilicata ha organizzato un webinar sul tema gestione finanziaria delle imprese l'importanza di una corretta gestione finanziaria tema del secondo di un ciclo di tre webinar promosso dalla Camera di Commercio della Basilicata a supporto degli imprenditori nella prevenzione delle crisi d'impresa anche l'appuntamento di mercoledì 24 febbraio è stato notevolmente partecipato non solo in termini di presenze numeriche dato anche l'interesse dei temi al centro del seminario digitale che ha richiamato davanti ai monitor gli imprenditori lucani interessati a prevenire, cambiare e reagire per tempo alle nuove esigenze dei mercati primo tra gli esperti relatori che si sono avvicendati nel corso di questo secondo appuntamento Lorenzo Pagliuca, vicepresidente nazionale piccola industria di Confindustria che ha affrontato il tema della riforma introdotta dal decreto legislativo numero 14 del 2019 ovvero quello relativo al codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza al suo è seguita una relazione della cofondatrice di Per Consulting Lorena Ponti la cui relazione è stata focalizzata sulla prevenzione della crisi e sul come cogliere i segnali di pericolo Giuseppe Lazzano, esperto commercialista dello studio Moscato ha affrontato il tema della pianificazione finanziaria il corretto trade-off, scambio tra indebitamento e capitale proprio Vincenzo Cantelli, anche egli commercialista salary partner di NCTM studio legale associato di avvocati e professionisti con sedia Milano, Roma, Londra, Bruxelles e Shanghai ha affrontato il cruciale tema della valutazione dell'impresa principi e strumenti il tavolo digitale, come sempre, moderato da Gianmarco Paglietti di Nexta, che con l'azienda speciale Asset Basilicata realizza l'iniziativa, si è concluso con una sessione di domande e risposte Terzo e ultimo appuntamento, il 3 marzo prossimo, sul tema il ruolo della fiscalità nella gestione dell'impresa Adesso invece andiamo a Matera, dove continua la discussione in Consiglio Comunale che porterà all'approvazione del regolamento urbanistico della città si procede per schede, emendamenti e votazioni intanto nei giorni scorsi sono intervenuti gli ordini professionali di architetti ingegneri e geometri della provincia di Matera che hanno denunciato uno scarso coinvolgimento non raccogliendo l'invito alla collaborazione proprio per la sua unicità ormai riconosciuta a livello planetario scrivono Matera è una città in cui il dibattito sull'urbanistica è sempre stato avamposto di una marcata vivacità culturale che ha interessato trasversalmente le diverse componenti sociali e professionali del territorio gli ordini professionali aspirano ad assolvere un ruolo di insostituibile cerniera capace di farsi interprete delle istanze della collettività e di trasformarle in impulsi ad uso della pubblica amministrazione e adesso andiamo a potenza per parlare di politiche giovanili alcuni luoghi della città versano in stato di degrado proprio per colpa di alcuni giovani vediamo uno spettacolo indecoroso allarmante non solo perché accompagnato dall'indifferenza ma anche e soprattutto per i risvolti sociali per una città di provincia queste immagini di degrado arrivano da Rione Poggio Tregalli e Piazza Bologna zone popolose di potenza, a volte dall'abuso di alcol giovanile la denuncia arriva da residenti ed esercenti stanchi di una situazione divenuta routine con l'emergenza pandemica persone incivili, dei ragazzi, soprattutto ragazzi, ragazzi io ho trovato proprio uno che faceva la pipì gli ho detto pure scusate ma che c'è un bagno? mi ha risposto signora quando mi scappa, se mi scappa mi scappa devo chiamare i ligi, chiama chi vuoi allora quando vedi questi ragazzi che sono in questo modo che fai? in tre anni di attività ho pulito forse 12 volte e purtroppo dopo due settimane massimo ritorna così la situazione e dobbiamo un attimino capire come risolvere il problema bisogna cercare di fare il più possibile una sensibilizzazione per i ragazzi forse qualcosa noi come attività potremmo fare magari chi prende il bicchiere di plastica, la bottiglia dare magari un incentivo al ragazzo chi riporta la bottiglia a uno sconto su quello che poi consumerà in seguito a parlare del lavoro in atto sulle politiche sociali l'assessore comunale Fernando Picerno ultimamente stanno aumentando questi fenomeni di questi giovani che diciamo si danno all'alcolismo con l'assessore alla pubblica istruzione vogliamo cercare di coordinare nelle scuole con i dirigenti scolastici coordinare un po' il tutto vorremmo fare qualche incontro con i nostri assistenti sociali e psicologici del comune per far capire a questi ragazzi il momento critico della situazione rivolto un appello alle famiglie del capoluogo Lucano prima i punti di riferimento erano la famiglia in primis poi c'erano le scuole e chi era cattolico e qua c'erano le parrocchie una per un caso, un'altra per un altro sono venute meno allora è importante riprendere questi valori e torniamo a Matera dove a Casino Padula sono state presentate le nuove iniziative della Fondazione Matera Basilicata 2019 uno spazio è aperto ai cittadini del quartiere non solo utilizzato per coltivare gli orti urbani per organizzare finanche riunioni di condominio per incontrarsi per momenti culturali e sociali di ogni genere è Casino Padula alla Rione Agna di Matera la Fondazione Matera Basilicata 2019 ne ribadisce il ruolo e le attività in continuità con il percorso della Capitale Europea della Cultura certamente rallentato dal Covid ma mai fermato così è stato detto nella conferenza stampa che segue le dichiarazioni di qualche giorno fa circa un presunto stato di abbandono del sito o la probabile messa a bando da parte del Comune per la gestione dello spazio anzi, specifica la fondazione allo sguardo rivolto al post-pandemia soprattutto alla luce del dibattito aperto da Ursula von der Leyen sul nuovo Bauhaus europeo e che vedrà l'Open Design School come annunciato protagonista del movimento questo è uno spazio diciamo sempre aperto che continua ad essere aperto a tutti i cittadini e alle cittadine che vogliono utilizzarlo è uno spazio abitato e vissuto aperto ai cittadini che stanno prendendo cura degli orti di comunità aperto ai bambini che giocano a calcio o vanno in bicicletta aperto ai signori che come lì sotto quell'albero amano a leggere un libro a fare riunioni condominali in piena sicurezza a plein air è uno spazio in cui soprattutto anche l'Open Design School sta diciamo progettando il futuro ma soprattutto sta progettando un grande dibattito che si sta facendo a livello europeo sulla new Bauhaus e in questo dibattito lanciato in maniera diciamo così molto autorevole dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha detto io le prossime diciamo voglio lanciare sei new Bauhaus in tutta Europa e la cosa interessante è che l'esempio uno degli esempi di riferimento per questa new Bauhaus è l'Open Design School di Matera aggettando lo sguardo al post pandemia cosa sarà Casino Padula per la città e per il quartiere in particolare? Allora questa è una scelta che sta spetta al comune che ricordiamo è uno dei principali soci della fondazione spetta al comune perché il Casino Padula è del comune di Matera ed è il comune che ha una sua idea di città un suo piano di città e quindi diciamo così fa delle scelte legittime in questo senso noi stiamo dialogando col comune ci vedremo anche a breve per capire in generale qual è l'uso migliore che possiamo fare degli spazi perché siano degli spazi attivatori delle piattaforme si dice la parola piattaforma che è una parola forse abusata ma dà il senso del fatto che la piattaforma vuol dire che è uno spazio a servizio di tutti e che ha un effetto moltiplicatore un effetto di moltiplicatore delle energie cittadine E in chiusura all'istituto agrario di Matera è arrivata una troupe del ministero dell'istruzione per il progetto Le Scuole Una mattinata diversa quella vissuta dai ragazzi dell'istituto tecnico agrario di Matera Gaetano Briganti che si sono dovuti prestare insieme alla preside al corpo docente della scuola a fare da attori per un video nell'ambito del progetto nazionale le scuole promosso dal ministero dell'istruzione la scuola è stata pacificamente invasa da una troupe televisiva del ministero guidata dal curatore del progetto Fabrizio D'Agosta che grazie alla preside Carmela Gallipoli che ha fatto loro da Cicerone ha documentato le numerose attività della scuola nonostante i progetti e il lavoro scolastico al momento siano ridimensionati a causa della pandemia e la didattica in presenza si è ridotta al 50% la troupe ha potuto documentare il grande lavoro dei ragazzi dell'ITAS di Matera alle prese con le produzioni agricole dell'azienda messa a disposizione dall'istituto e con quelle dei laboratori Siamo orgogliosi oggi di partecipare al progetto Le Scuole lanciato dal ministero perché abbiamo la possibilità di illustrare quelle che sono le potenzialità del nostro istituto il periodo è un periodo diciamo non bello molto triste però sia io sia i docenti e anche gli alunni grazie a Dio cerchiamo di reagire La preside Gallipoli grazie anche al lavoro dei docenti specie della professoressa Loponte sono riusciti complice la qualità del piano didattico a rientrare tra le scuole superiori meritevoli in Basilicata di un approfondimento da parte del progetto Le Scuole insieme all'ITAS Briganti il ministero ha visitato anche l'istituto alberghiero Turi di Matera e l'istituto comprensivo Stella di Muro Lucano Noi infatti siamo molto contenti di avere la possibilità di girare per le scuole italiane perché sappiamo quanto in questo periodo sono andate in difficoltà quanto la comunità scolastica si è unita e quindi era nostro proprio interesse andare a raccontare proprio le specialità le eccellenze di queste scuole italiane che molto spesso sono sotto l'occhio sempre della polemica e noi invece volevamo invertire questa tendenza in un racconto positivo delle realtà scolastiche italiane perché davvero ci stiamo accorgendo ma già lo sapevamo di quanto potenziale c'è nelle scuole italiane Per il momento ci fermiamo qui grazie per averci seguito io vi saluto vi do appuntamento alla prossima edizione arrivederci